Hello, buongiorno a tutti, io sono Monica Cavalletti, sono un'insegnante di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado e sono qui per presentarvi English for Funbox. English for Funbox è un sito che io ho creato lo scorso anno con i miei alunni della scuola dove insegnavo e nel quale abbiamo inserito dei lavori creati da loro, delle lezioni fatte da me, dei video presi dalla rete che io ritenevo utili proprio per l'apprendimento della lingua inglese in questa fascia d'età e che ho pensato di continuare ad utilizzare anche con gli alunni della mia nuova scuola nella quale sarò a partire da settembre e che ho diciamo completato creando anche una pagina Facebook e che ho diciamo arricchito anche con un canale YouTube nel quale ho già caricato alcuni dei lavori creati per i miei alunni e dai miei alunni dello scorso anno scolastico. English for Funbox vuole essere soltanto uno spazio nel quale io e i miei alunni possiamo comunicare, scambiare materiale relativo alla lingua inglese ma anche un'ulteriore piccola finestra sul mondo di questa lingua affascinante che magari tutti gli studenti e non solo, anche di altre scuole possono trovare qualcosa di interessante che possa in qualche modo aiutarli ad approcciarsi a questa lingua with fun, con un po' di divertimento, senza troppa rigidità, senza troppa pesantezza ecco, quindi buon divertimento con English for Funbox e a presto!